Salve amici di Popcorn, sono Serena Macialatti e qui fa sempre sempre più caldo. Anyway, oggi nel web ha fatto capolino un nuovo trailer del film Oceania, ovvero il 56esimo lungometraggio Disney. In questa dolcissima clip vediamo la nostra giovane protagonista Vaiana alle prese con l'oceano e la sua magia. Questo film racconta la storia della ragazza il cui nome significa in taitiano Acqua della Grotta. Vaiana, per dimostrare di essere una grande esploratrice, si imbarcherà in questa avventura per continuare e finire il viaggio iniziato tantissimi anni prima dai suoi antenati. Nel cast ci sarà anche Maui, un semidio mutoforma doppiato da Dwayne Johnson. Godetevi il trailer perché il film arriverà nelle sale italiane a Natale 2016. Per non perdermi neanche un aggiornamento su questo e su tanti altri titoli, mi raccomando visitate www.screeweek.it o scaricate la nostra applicazione. Ciao!